Buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche e amici. Sentite i sentimenti di questo ragazzo, i sentimenti. Un'enorme grazie. Ma se andrà la stessa la daria? L'unico collante sono le poltrone. Natavoto. E queste già le hai dette? Asca, le hai dette una volta, due volte, io ce l'ho detto. Che te ne importa? Stai zitto, lo sai, il ragazzo ha avuto la malattia di nervo. Dopo qualche minuto di rabbia. E' nervoso. Tutti mi chiedete, avrai mica intenzione di mollare? Eh? Sono i progetti, le idee, le infrastrutture, la scuola, la giustizia, le tasse, le riforme. La camisa, ma gli è cazzottini. E i Renziani, e i Boschiani, e Di Maio, e Zingaretti, e Fico, e Grillo. Perché non mi è mise pure a me nella famiglia? Eh? Secondo te io non esisto. No, tu no. Pai scala, a bozza. Se qualcuno ancora non avesse capito che questo governo non nasce a Roma, a Milano, a Torino, a Napoli, a Palermo. No, vai avanti, vai. Nasce a Bruxelles per far fuori quel rompipalle di Salvini, per togliere dal governo il primo partito italiano. Ma tu veramente fai? Sì. Ah, io vedi. Sì. Ma allora sei sce. Sì. Grazie a tutti.